Sto pagando un saldo e stralcio per un debito del 2009 ma non è andato in prescrizione. Dipende, in genere dopo 10 anni il debito va in prescrizione purché non siano state inviate delle raccomandate o atti giudiziari che abbiano interrotto la prescrizione. Se è stato fatto poteva anche non essere prescritto, se non è stato fatto può essere prescritto. Può essere anche che stai pagando un debito prescritto, non è detto che però lo sia con certezza. Avresti però tu dovuto contestare, richiedere alla società che ha acquistato il credito i documenti che dimostravano che il credito non era prescritto. La prescrizione non opera in automatico, quindi non è che per un debito prescritto non possono agire nei tuoi confronti o richiederti il pagamento. Possono farlo, a quel punto sarà tuo onere andare a chiedere documentazione in tal senso e se loro non riescono a dimostrarlo far dichiarare prescritto il debito cancellando lo stesso e anche l'eventuale segnalazione.